Piccoli cittadini crescono e Roma fa spazio alle loro esigenze anche in tema di mobilità con la sperimentazione della campagna nazionale strade scolastiche, promossa da associazioni di genitori, pediatri e ambientalisti. Obiettivo liberare dalle auto le strade intorno alle scuole. A Roma le strade scolastiche coinvolgono 17 istituti. Negli orari di ingresso e di uscita gli agenti della polizia municipale transennano il tratto di strada vicino alla scuola così da consentire ai bambini di entrare e uscire in autonomia e sicurezza a piedi o in bicicletta. Siamo andati a scoprire cosa accade in uno di questi istituti, la scuola primaria Malaspina in via Antonino Pio. Qui la strada viene chiusa ogni martedì due volte al giorno, al mattino dalle 7.50 alle 9 e il pomeriggio dalle 15.50 alle 17. Una chiusura totale anche se temporanea. I bambini diventano padroni del loro spazio per correre, pedalare e giocare.